Aver interpretato la canzone in italiano è stato incredibile, davvero un'esperienza eccezionale. Ho fatto le prove con la mia mamma e mi sono molto divertita. Non ho faticato tanto quanto pensavo all'inizio. Martina Stoessel, la protagonista della serie Disney Violetta, ha interpretato in italiano la sigla Emmy Mundo in esclusiva per i suoi fan italiani. Attenzione all'inquadratura, ecco, va bene. Ho avuto qualche piccola difficoltà, soprattutto con la pronuncia, però ho cercato di fare tutto il possibile. Siamo stati a Buenos Aires per girare con lei lo speciale videoclip fatto apposta per l'Italia. Voglio mandare un saluto molto, ma molto grande a chi ci segue dall'Italia. Siamo qua nel backstage e stiamo per registrare solo per voi il videoclip della canzone nel mio mondo. Io e i ballerini abbiamo provato moltissimo e siamo tutti davvero ansiosi. Adesso vi canterò un pezzettino della canzone. Vediamo se vi piace. Ti confesso che non so bene cosa fare, forse è perché non ho tempo per pensare. Adesso siamo sul set dove gireremo le scene ambientate nel bar e come potete vedere ho qui il mio diario. Guardate, la musica, le amiche. Bene, tra poco prenderò confidenza con la gente e dopo cominceremo a ballare. Vedremo Violetta in un caffè mentre sta leggendo il suo diario e sta ricordando i bei momenti che ha trascorso allo studio. Sceglie la canzone e comincia a cantare. Sappiamo bene com'è Violetta. Non riesce a controllare la sua vitalità, la sua allegria e la sua energia. E in pratica lei si lascia trasportare dalla musica e si mette a ballare, esce dal caffè e incontra diverse persone che comunicano con lei ballando e finiscono per creare una coreografia tutti insieme. È una persona dall'allegria contagiosa. Quando stai con lei riesce sempre a strapparti un sorriso. È una qualità che non tutti hanno e che la rende speciale. E oggi l'ha dimostrato ancora. Lei fa sì che tutti siano contenti. Bene ragazzi, stop! Bravissimi!